Quattro di... del cin... del guai? Sì, questo qua di dietro Ci troviamo tutti Sì, c'è... Questo? È del cin... Sì, è del cinque Ok Quasi da dieci Il guai è del cinque È proprio Non è in... Non è in... Non è in... Devi essere dentro? Sì Guai, prima bene, dopo io insieme Va bene Sì Porco di... Dietro, 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 dietro Cazzo Questo non è il problema di dietro Questo non è il problema di dietro Porco Dio C'è garotto? Sì Dove? Non l'ha rotto però È uscita È uscita... È scuriata qua tipo Mamma mia Dove? Ci sono in... Odgo e e e e e e e E' un'altra cosa? Grazie a tutti.